Salve, sono Luigi Piccinato, di professione architetto. Nacque a Legnago nel lontano 1899 e purtroppo morì a Roma nel 1984. Sono stato professore di urbanistica nell'Università di Venezia e Roma, ma il motivo per cui mi vedete in questo video è che ho realizzato il piano regolatore di Benevento nel 1932, oltre ai piani regolatori di La Spezia, Sabaudia, Cagliari, Arezzo e Catania. A Benevento ho progettato, tra le altre cose, la Piazza della Rivoluzione con liceo classico Giannone e l'edificio della ex GIL, gioventù italiana dell'Vittorio, demolito negli anni 60 per far posto all'attuale palazzo della Banca d'Italia. Sin dal 1932 fino al periodo post bellico sono stato protagonista prima della trasformazione di una città in crescita, poi di una città sconvolta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e da successivi frenetici interventi di ricostruzione e speculazione edilizia. Fra me e la città si stabilì un forte legame, al punto che dedicai ad essa gli anni più fervidi della mia attività, sia attraverso il primo piano regolatore che seguendo le varie amministrazioni con studi, proposte e progetti nei quali profusi entusiasmo e dedizione. Come dicevo poc'anzi, il primo incarico che ricevetti fu la redazione del piano regolatore della città. Il potestà Collarile individuò me quale progettista del piano, tra i tecnici suggeriti dal Ministero dei Lavori Pubblici, senza ricorrere ad un concorso di progettazione. Il lavoro di pianificazione fu da me avviato nel 1933 e consegnato in soli quattro mesi. Uno dei temi fondamentali del mio piano regolatore riguarda l'insieme delle questioni legate alla città vecchia. A difesa del carattere della città e dell'ambiente, cercai di individuare soluzioni specifiche, guidate dal caso per caso, escludendo la costruzione del nuovo all'interno del tessuto più antico, vale a dire la città vecchia, ossia il centro antico di Benevento. Di essa io lessi la fisionomia non solo nei monumenti, quanto piuttosto in quel tessuto stratificato generalmente definito architettura minore. Infatti, tale fisionomia non solo scaturisce dai principali monumenti famosi, quali l'arco di Traiano, il teatro romano, la cattedrale, la rocca, le chiese, i palazzetti, le mura, ma è anche formata da tutto quel complesso di architettura minore infinitamente interessante. Casette medievali, composte con frammenti di architettura classica, si assiepano lungo le rivide viuzze, le scavalcano con ardite archivolti successivi, fasciano anguste piazzette animate da loggie e balconi. Qualche palazzotto barocco si affaccia su di una piazza solitaria e giardini pensili con pergole ed altissimi pini formano rare oasi di verde nella fitta massa delle case. Tutto questo ambiente ci dà il carattere della città più ancora che non lo facciano i famosi monumenti e perciò va rispettato, curato e migliorato. Altri temi centrali della mia opera di urbanista a Benevento furono la sistemazione del rione Triggio con il teatro romano, la zona di Posillipo prospicente il fiume Calore e l'arco di Traiano. Ma non mi fermai a questo, bensì guardai anche oltre le mura. La mia è una visione di una città aperta che dialoga con il paesaggio e l'orografia dei luoghi e che stabilisce nuove relazioni fisiche e visuali attraversando il territorio con nuove infrastrutture. Senza falsa modestia posso dire che le premesse del mio piano urbanistico furono a quel tempo tra le più moderne in Italia. Il programma urbanistico era diviso in cinque punti, il sistema delle comunicazioni, la sistemazione della città vecchia, i quartieri di ampliamento, il verde, il piano edilizio. Anche se, a dire il vero, per me la città da pianificare fu quella nuova mentre la salvaguardia della parte storica era funzionale a un'armonizzazione fra le parti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!